Doppio cambio della guardia sulla Murgia. Gli ultimi risultati deludenti nel campionato di Serie D hanno indotto le dirigenze di team Altamura e Gravina ad intervenire sulle rispettive guide tecniche, come spesso accade in situazioni analoghe. A pagare sono sempre gli allenatori. Sollevato dall'incarico sulla panchina degli altamurani Claudio De Luca, i biancorossi sono reduci da due sconfitte consecutive, la prima in casa con il Sorrento la seconda domenica scorsa a Bitonto e non vincono da quattro gare. Quattro i nomi più gettonati per la sua successione Aldo Papagni, Alberto Villa, Salvatore Campilongo e Michele Armenise. Domani nel turno infrasettimanale della decima giornata nella sfida casalinga contro il Taranto, in panchina però andrà il tecnico della Juniores Leo Di Benedetto, fischio di inizio al D'Angelo, previsto alle ore 14.30. Ha già scelto chi erediterà il testimone da Pino Di Meo, invece il Gravina che ha affidato il timone della squadra a Valeriano Losseto nella prima parte della passata stagione. Inci, alla Fidelisandria, ritorna a guidare i gialloblu, con cui nel 2015 ha vinto campionato di promozione Coppa Puglia e Supercoppa. Esordirà come nuovo allenatore del Gravina. Domani nella gara interna con il Pomigliano fissata alle ore 15.30 sul sintetico del vicino. Molto interessante si preannuncia l'incrocio tutto pugliese in programma al Vito Corlo tra Fasano e Cerignola. I biancazzori di Giuseppe La Terza vogliono rialzare la testa dopo la sconfitta di Gragnano. La squadra di Dino Bitetto, reduce da sei risultati utili di fila e seconda in classifica, non può concedersi passi falsi dopo il pareggio interno con la Fidelisandria. Abbinamento casalingo sempre nel girone H per un Ardò in salute che ospita e il Sorrento nell'altro raggruppamento, quello E. Il Bari sarà impegnato invece in trasferta contro un Castrovillari da non sottovalutare. I biancorossi sperano di proseguire la fuga in classifica.